Rocco Commisso e tutto il mondo viola tirano un sospiro di sollievo. Il ricorso d'Italia Nostra sul Viola Park è stato dichiarato inammissibile da parte del Tar. Vicenda chiusa, i lavori non subiranno interruzioni. L'obiettivo resta quello di concludere la realizzazione della nuova casa della Fiorentina entro la fine dell'estate 2022. Il ricorso presentato da Italia Nostra è avvenuto in un momento in cui il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario era ormai decorso quindi fuori dai tempi previsti dalla legge. La Fiorentina si mette la vicenda alle spalle. Il timore di doversi fermare adesso è soltanto un brutto ricordo. La proprietà punta forte sul Viola Park sarà il primo biglietto da visita del club. Con tecnologie avanzate e una superficie di assoluto rilievo il nuovo centro sportivo sarà il fiore all'occhiello di Rocco Commisso. Durante ogni viaggio in Italia c'è tornato per un sopralluogo e anche l'allenatore Gennaro Gattuso nel suo primo giorno a Firenze ha fatto visita ai cantieri e ne è rimasto favorevolmente impressionato. Proprio la nuova infrastruttura è stata una delle motivazioni che lo ha spinto ad accettare la sfida di aprire un ciclo con la Fiorentina. Se tutto andrà per il verso giusto sarà proprio lui il primo allenatore ad inaugurare il Viola Park. Intanto la società può concentrarsi sul mercato in vista della prossima stagione. I dirigenti sono al lavoro per abbassare le pretese economiche del porto per cedere Sergio Oliveira. Poi si andrà avanti su Gonzalo Guedes e Nico González in attesa di un segnale di Frank Ribéry sul suo futuro.